Bene, ci troviamo, come dice in Giovanni 1,28, ci troviamo a Betapara, questo è il punto dove Gesù fu battezzato, questo è il punto dove ci fu il barco del popolo di Israele quando entra nella terra promessa, questo è il punto presumibilmente dove dall'altra parte della sponda della Giordania venne rapito in cielo Elia, questo è un posto molto ambito dalle due nazioni perché il valore spirituale è molto molto elevato, quindi siamo grati a Dio per questo e è una grande testimonianza di tutti i servi che qui veramente possano godere di quello che è la nostra eredità in tutti i sensi, amén, a Dio la gloria. Grazie. 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 Grazie.